L'anno scorso oggi eravamo in lockdown, era il primo giorno di lockdown. Mi sembra che il lavoro che sta facendo il governo insieme agli esperti del CTS però bada in una situazione, diciamo, verso decisioni diverse. Non ci sarà una chiusura generalizzata, non c'è bisogno di una chiusura generalizzata, c'è bisogno di fare più zone rosse lì dove il virus è più forte e di magari chiudere il weekend, insomma, così come è stato fatto a Natale. Però non rivedremo le immagini dello scorso anno, Senatore. No, mi pare che ci sia da parte di Draghi un ricalco di quelle che sono state le linee, le direttrici, insomma, seguite dal precedente governo Conte. Prima la vita, poi il ristori all'impresa e le garanzie ai lavoratori. Però mi pare che non ci sia ombra di dubbio sul fatto che purtroppo è il virus che continua a dettare le regole di questo gioco terribile. Continuiamo ad inseguirlo, adesso ci sono anche le varianti che hanno complicato il quadro. Ma sono i numeri che dettano la politica, dobbiamo ammettercelo. Tutti noi vorremmo tornare il prima possibile alla normalità, ma non possiamo nemmeno parlare tapandoci gli occhi, come qualche esponente politico continua a fare. Governare significa prima di tutto responsabilità. Il governo Conte ha cercato attraverso anche questo modello dei colori di evitare i lockdown assoluti, quelli alla tedesca, tanto per intenderci. Dobbiamo continuare a farlo e dobbiamo sempre controllare il livello di pressione dei centri di terapia intensiva ospedalieri. Sono quelle le nostre spie di allarme. Si va avanti così. Licari, ma quando Ciriani dice che il piano vaccinale non esiste, ma siamo davvero così indietro? Avrete notato come Ciriani ha citato tutta una serie di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Ha citato la Cina, ha citato la Russia, la Corea. Io francamente non cambierei il servizio sanitario italiano con quello russo, con quello cinese. È ovvio che si tratta di procedure che nell'Unione Europea sono più severe, ma se sono più severe e più stringenti, probabilmente è per la migliore e la maggiore tutela della salute pubblica dei cittadini europei. Il piano vaccinale europeo, la prima volta nella storia dell'uomo che si mette in piedi un piano vaccinale di queste dimensioni. È evidente che ha avuto dei problemi, è evidente che la scarsità di vaccini non riguarda solo l'Europa, ma lo stesso problema ce li hanno anche i nostri vicini di casa. Dobbiamo sicuramente migliorare nell'articolazione, nella distribuzione dei vaccini, ma io non mi preoccuperei tanto dei vaccini che non stanno arrivando in questi giorni. Io vedo molto più possibile il problema tra qualche settimana, quando arriveranno grandi quantità di vaccini, come potremo fare per stoccarli, per conservarli, per inocularli. Quello sarà veramente un problema logistico molto importante. Ma io lascerei da parte in questo momento le polemiche. I cittadini non hanno bisogno di polemiche. Per quanto riguarda poi il decreto Ristori, che adesso semanticamente vogliono chiamare... Ne parliamo tra poco, Liccheri, nuovo intervento che contiene i cosiddetti ristori per le imprese colpite da Covid, c'è il congedo retribuito per i genitori con i figli indati, è stato però rinviato di qualche giorno. Ci sono le proteste degli esercenti, l'abbiamo sentito. Liccheri, perché questo ritardo? Perché c'è chi dice che non si trova la quadra tra le varie anime di questa maggioranza sulle misure chiave del decreto. No, questo ritardo è dovuto semplicemente al fatto che la politica per un mese e mezzo si è fermata e caduta dentro una crisi le cui ragioni ancora sfuggono ai cittadini italiani, a meno che non si voglia parlare di un atto di killeraggio, di teppismo, che è stato compiuto nei confronti di Giuseppe Conte. Quindi se volete chiedermi le ragioni del ritardo, vi dico che non posso essere io quello a rispondere, ma devono essere altri al mio posto. Per quanto riguarda invece la riforma, che in qualche modo le misure, che in qualche modo si vogliono introdurre per quanto concerne il fisco, attenzione, perché poi noi sosteniamo sempre il valore culturale della politica, quindi anche l'effetto pedagogico della politica. Attenzione a non premiare chi non ha rispettato le regole. Possiamo effettivamente usare comprensione verso chi non ha rispettato le regole perché non poteva oggettivamente pagare le cartelle, giustamente nel vostro servizio si è parlato di nulla tenenti, si è parlato di persone in difficoltà economica, ma noi siamo in linea di principio sempre stati contrari ai condoni tombali. Diverso invece è il caso del fisco che entro cinque anni deve agire e se non agisce entro cinque anni il cittadino non può rimanere dentro le maglie di una procedura di recupero fiscale che sembra non aver mai fine. Ciliani mi permetti di dirti una cosa? Sì, velocemente, Licari. Sui vaccini dobbiamo veramente intenderci, voglio magari esprimere diversamente il concetto, noi non siamo l'Ungheria, noi non siamo San Marino, quindi siamo pronti ad accettare i vaccini sputnik, i vaccini russi, purché i russi si sottopongano a quelle verifiche dell'EMA e che consentano all'EMA di procedere a queste verifiche, perché se i russi si rifiutano di procedere a queste verifiche una domanda ce la dobbiamo pur fare. Sei d'accordo con me? Sono assolutamente d'accordo. Allora io devo andare in break, però ringrazio Ettore Licchieri e Luca Ciriani per essere stati con noi stamattina a Start. Abbiamo fatto velocemente un po' di considerazione.